Un saluto amicisi Simonello! Benvenuti in questo nuovo video! Spero che gli scorsi video vi siano piaciuti e vi ricordo di mettere tanti pollici in su e zero pollici in giù ma senza perdere altro tempo andiamo dritti all'argomento di oggi. Oggi non parliamo di Milan ma di un argomento clamoroso, davvero clamorosissimo. Di Leo Messi parliamo, però non c'entra niente con Milan perché il Barcellona ha lasciato definitivamente Leo Messi. Il rinnovo è una mission impossible. Ho usato un po' questo termine tanto per cambiare. Lui è nato il 24 giugno 1987 quindi ha 34 anni. È argentino, come sapete tutti, che ha vinto la Coppa America. È alto, cioè è basso, 1 metro e 70 centimetri. È la pulce, come la chiamano. Invece Brian Piazza è la pulce rossa e nera. È cresciuto col Barca, il Barcellona. Il Milan non ci potrebbe mai andare, è il Milan Messi perché è una folia se arriverebbe a Milan ma tanto non ci arriverà mai. Però al Milan serve un giocatore di quel genere, un 10. Per me andrà il PSG ma forse perché non è ancora ufficiale che va il PSG. Quindi non lo so. Però comunque lascerà il Barcellona, anzi l'ha già lasciato perché comunque è svincolato. Barcellona che ha già preso, c'è gli attaccanti, ce ne ha tre. A Griezmann, Depay e Aguero. Gli hanno appena presi. Griezmann ce l'hanno già, però hanno appena preso Aguero e Depay. Bene amici di Simonello, siamo giunti alla fine di questo video. Ah, andate a rivedere i video precedenti, eh. Questa è una notizia clamorosa, ricordatevi. E comunque questa non era una notizia sul Milan, però ci tenevo a fare il video perché era un argomento comunque che era da dire su questo canale. Perché è una bomba clamorosa perché se Messi lascia il Barcellona non andrà mai il Milan. Ma comunque era da dire questa cosa. Se il video vi è piaciuto mettete tanti pollici in su, zero pollici in giù. Fate un sacco, un sacco, un sacco di visualizzazioni. Noi ci vediamo sempre qui su Simonello. Rimanete sintonizzati perché la settimana prossima ci sarà una location diversa dal solito. Ma non vi dico dov'è perché è una location segretissima. Bene, mettete tanti pollici in su, zero pollici in giù e noi ci vediamo sempre qui su Simonello. Ciao!